Cari amici, benvenuti in questo nuovo video del corso online di chimica organica. Nello scorso video avevamo cominciato a vedere la nomenclatura degli alcani. Oggi inizieremo a parlare di isomeria. Vedremo cioè che ci possono essere più composti che hanno la stessa formula bruta, ma che hanno poi diversa formula di struttura. Vedremo anche che addirittura possiamo avere composti in cui gli atomi, nonostante siano collegati tra di loro nello stesso modo, si possono disporre nello spazio in modo diverso. Iniziamo quindi subito a distinguere due grandi tipi di isomeri. Gli isomeri costituzionali e gli isomeri ottici, o stereoisomeri. Come vi dicevo prima, negli isomeri costituzionali abbiamo gli stessi atomi, presenti nella stessa quantità, ma che si legano tra di loro in maniera diversa. Per esempio, CH3CH2OH è un alcol, l'etanolo, il normalissimo etanolo. sono due molecole completamente diverse, con proprietà fisiche che non c'entrano assolutamente nulla, ma che, come vedete, hanno la stessa formula bruta. La formula bruta dell'etanolo è C2H6O, quella del dimetil etere è sempre C2H6O, senza formula bruta. Però nell'etanolo ho due carboni che si legano tra di loro, quindi avrò carbonio, carbonio, degli idrogeni, H, 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 poi avrò un ossigeno legato a un carbonio e un altro idrogeno legato a un ossigeno. Nel dimetil etere invece ho carbonio, ossigeno, carbonio. Quindi cambia l'ordine dei legami, anche se gli atomi sono gli stessi. I isomeri di questo tipo si chiamano isomeri costituzionali. E non c'è molto da dire, sono molecole che non c'entrano assolutamente nulla l'una con l'altra, sono molecole diverse. Il discorso diventa più complicato quando invece andiamo a parlare di stereoisomeri o isomeri ottici. In realtà abbiamo vari tipi di isomeri ottici, ora li vedremo uno per uno. Il primo tipo di isomeri ottici che andiamo a vedere sono quelli che si chiamano diastereoisomeri. Nei diastereoisomeri abbiamo gli stessi atomi, che si legano tra di loro nello stesso ordine, ma che si dispongono nello spazio in maniera diversa. Prendiamo per esempio questa molecola e questa molecola. Come vedete non è un alcano, non sono alcani, sono alkeni, perché c'è un doppio legame carbonio-carbonio. Allora, in questo caso come vedete i due gruppi metili, 1 e 2, sono dalla stessa parte del doppio legame. Sono tutti i due in alto. Questo tipo di isomero si chiama cis. In quest'altra molecola invece i due metili, 1 e 2, sono da parti opposte rispetto al doppio legame. Questo tipo di isomero si chiama trans. Poi vedremo approfonditamente come ci si comporta, come fare a capire bene se è cis o se è trans. Per ora, quello che dovete capire è che negli alkeni, e in altre dividi molecole, possiamo avere questo tipo di diastereoisomeria. Cioè, per esempio, su, giù. Quindi possiamo avere due molecole in cui due gruppi sono dalla stessa parte o in cui sono da parti opposte. Qui vedete, ho un modellino molecolare del nostro isomero cis. Come vedete, se questi qua sono i due CH, quindi carbonio-carbonio, carbonio-carbonio, idrogeno-idrogeno, CH3 e CH3. Sono entrambi dalla stessa parte. Se sostituisco questo idrogeno con questo metile, per cui l'idrogeno va su e questo metile va giù, ottengo gli sono rotranze. Come vedete, non li posso ruotare. Cioè, posso ruotare qui, dove c'è il legame singolo, ma dove c'è il doppio legame non posso fare rotazione. Per cui, questa molecola e quella corrispondente col metile all'altra parte sono, di nuovo, molecole diverse. Ma, questa volta, non sono isomeri costituzionali. Perché? Perché gli atomi sono sempre gli stessi, nella stessa quantità. E anche il modo in cui si legano è lo stesso. Carbonio-carbonio-carbonio-carbonio-carbonio. Ogni carbonio c'è sui idrogeni. Non ho più un ordine diverso di legami. Cambia come sono messi nello spazio. Un discorso più complicato, invece, è quello che riguarda gli enantiomeri. Negli enantiomeri, quello che cambia è che un isomero è l'immagine speculare dell'altro, non sovrapponibile. Le mani sono enantiomeri. La mano sinistra e la mano destra sono immagini speculari non sovrapponibili. Cosa vuol dire non sovrapponibili? Vuol dire che il guanto sinistro non entra nella mano destra. E il guanto destro non entra nella mano sinistra. Tuttavia, vi sfido a spiegare a un alieno la differenza tra la nostra mano sinistra e la nostra mano destra. Provateci, non ci riuscirete, è impossibile. Cioè, in realtà è possibile, ma è molto difficile. Perché? Perché è difficile. Abbiamo cinque dita. Potete dirgli, sì, abbiamo un pollice, un indice e così via, però l'ordine è sempre lo stesso. Ok? Vedete, sono sostanzialmente identiche, però sono immagini speculari, quindi allo specchio sono immagini, ma sono non sovrapponibili. Ok? Qui, così i pollici sono da parti opposte, se invece faccio combaciare i pollici non combaciano le dita. Ok? Lo stesso vale per le molecole. Quando abbiamo un carbonio che è legato a quattro gruppi diversi, allora quel carbonio è un centro stereogenico, cioè è un atomo che porta la molecola ad essere chirale. In realtà, poi, quando approfondiremo questo discorso più avanti, vedremo che la presenza di un centro stereogenico non implica necessariamente la chiralità, però per ora approssimiamola in questo modo. Per esempio, se prendiamo questa molecole in cui abbiamo un carbonio, idrogeno, bromo, iodio, cloro, se disegniamo l'immagine speculare, ci accorgeremo che per quanto possiamo ruotare questa molecola, non riusciremo mai a farla combaciare con quest'altra. Per esempio, ovviamente, in questo modo non c'è troppo niente, perché il bromo sarebbe a sinistra e il cloriodio a destra. Se proviamo a girare la molecola di destra, a farla ruotare, intorno all'idrogeno, ci accorgeremo che quello che succederebbe è che qua finisce lo iodio, qua finisce il cloro e qua finisce il bromo e qua ci sarebbe l'idrogeno. Ok? Questo qua è se ipoteticamente provassimo a ruotare questa molecola. Non riusciamo a farli combaciare, perché sono molecole diverse. Gli enantiomeri sono in realtà delle brutte bestie, perché sono difficili da riconoscere, molto difficili da separare, perché hanno esattamente le stesse proprietà chimiche. In molti casi, in realtà in certi casi no, ma nella maggior parte dei casi hanno le stesse proprietà chimiche e soprattutto le stesse proprietà fisiche, per cui sono veramente complicati. Tuttavia, possono avere attività biologica molto diversa. Il caso più famoso è quello della talidomide. La talidomide era un farmaco che è stato approvato negli anni 50, anni 60, che era formato da due enantiomeri. Uno faceva bene, l'altro faceva nascere i bambini fogomelici. Senza testa, senza gambe, senza braccia. Insomma, veramente una brutta situazione. Ma altri esempi possono essere di molecole, come il limonene, in cui un enantiomero sa di limone e l'altro enantiomero sa di arancia, per esempio. Quello che cambia nella reattività dei due enantiomeri è come si comportano con altre molecole chirali. Cioè con altre molecole che hanno sempre questa proprietà di essere non sovrapponibili con la loro immagine speculare. Come vi dicevo prima, il guanto destro non entra nella mano sinistra. Ok? Un altro tipo di isomeria è quella che si chiama conformeria o isomeria conformazionale. Per esempio, se noi prendiamo il butano, questo qui, di nuovo possiamo vedere che i due gruppi metilici, uno e due, possono essere dalla stessa parte o da parti opposte. Tuttavia, in questo caso, eccolo qui, mentre prima, vi ricordate, in questo caso non potevamo avere rotazione, qui passare da questa forma, in cui i due metili sono entrambi sopra, alla forma in cui sono da parti opposte, come vedete, è un attimo, è facilissimo. Questo che vuol dire? Vuol dire che, allora, mentre i diasterisomeri hanno proprietà chimiche fisiche completamente diverse, sono molecole diverse, si possono separare, voi potete andare dalla Sigmaldric, dalla Fluca, da qualsiasi rivenditore di prodotti chimici e ordinare il cis-butene, il cis-2-butene o il trans-2-butene, che sono le molecole che abbiamo visto prima. Sono molecole diverse, ognuno per conto proprio. Lo stesso vale per gli enantiomeri. Gli enantiomeri, il verbo è detto, sono difficili da separare, hanno proprietà molto simili, ma una volta che sono separati, ognuno sta per conto proprio. Perché? Perché non si può passare da una forma all'altra senza rompere dei legami. Invece, non è possibile separare due conformeri. Perché? Immaginiamo pure che io, in qualche modo, in qualche maniera, riesco a preparare un barattolo in cui ci sia questo conformero del butano e un altro barattolo in cui ci sia quest'altro. Ok? Immaginiamo, in qualche modo, di riuscire a farlo. Magari lavoro a meno 250 gradi e riesco a farlo. Sarebbe totalmente inutile. Perché? Perché dopo mezzo secondo, loro si interconvertono, cominciano a trasformarsi tra gli uni negli altri. Non ho più delle molecole diverse, ma è sempre la stessa molecola che, a seconda di come ruota, può trovarsi in conformazioni diverse. Quindi, ricordatevi, isomeria conformazionale vuole dire che ho un legame sul quale può esserci rotazione. Quindi sono diverse configurazioni che la stessa molecola può assumere nello spazio. Nell'isomeria, invece, diciamo di asteroisomeria ed antiomeria, parlo di molecole diverse, che possono essere separate, che non si possono trasformare l'una nell'altra senza rompere qualche legame. Se io voglio trasformare questo nell'isomero trans, cosa devo fare? Devo rompere il legame, forte, rompere il legame. girarlo, quindi ora da qua lo devo girare, in questa maniera, l'ho girato, ora dovrei spostare questo idrogeno di qua, e ora lo posso riformare. Sono un po' due ancora, eccolo qua. Ho fatto l'isomero trans. Come vedete non è stata affatto una passeggiata, ho dovuto rompere dei legami. Mentre, nel caso di prima, passare da una forma all'altra è immediato. Quindi potreste dirmi, ma allora perché parliamo di conformeri? Gli altri tipi di isomeri in realtà li vedremo dopo. Ok, vabbè, negli isomeri costituzionali non c'è nient'altro da dire in realtà, punto. Sono molecole diverse, non c'entrano niente, quindi punto. Di enantiomeri e di asteroisomeri ne parleremo più avanti. Per ora, invece, limitiamoci un attimo ai conformeri. Perché è così importante parlare di conformeri? Perché le conformazioni che una molecola può assumere nello spazio sono fondamentali poi per comprenderne la reattività chimica. Infatti, se la molecola si dispone in un modo o in un altro, può, per esempio, lasciare o meno dello spazio per fare entrare un'altra molecola che può reagire, magari. Ok? Vedremo che in certi tipi di reazione la molecola è obbligata ad assumere certe conformazioni particolari. E se non le può assumere, perché magari ci sono degli impedimenti di alcuni tipi che vedremo, quella reazione non può avvenire. Inoltre, questo è importante anche poi dal punto di vista biologico. Pensate alle proteine, per esempio, al DNA. Ci sono delle conformazioni rigide che sono stabilizzate da alcune forze. Se queste conformazioni non fossero quelle giuste, smetterebbero di funzionare. Ok? Queste molecole smetterebbero di avere la loro attività biologica. Allora, per capire meglio questo concetto, ora vedremo un nuovo tipo di rappresentazione. Allora, questo qua è l'etano. Ok? Ora, io qua vi ho messo un atomo rosso. In realtà l'ho messo soltanto per evidenziarlo. Quindi fate finta che questo è un normalissimo idrogeno. È solo rosso per una questione visuale. Ok? Perché cominceremo a spostarlo e vogliamo vedere in che modo si rapporta con gli altri. Allora, iniziamo guardando questo tipo di conformazione. Come vedete, tutti gli idrogeni sono sullo stesso piano. Ok? Se lo vedete lungo l'asse carbonio-carbone, quindi se lo guardiamo da questa parte, sono perfettamente sovrapposti. Quindi, come faccio a disegnare sulla carta questa conformazione? Utilizzo quelle che si chiamano proiezioni di Newman. Vediamo come la possiamo disegnare. Allora, la proiezione di Newman dell'etano nella conformazione che vi ho appena fatto vedere è questa qua. Allora, con un puntino indichiamo il carbonio che ci sta davanti. Poi abbiamo... Scusate perché... Poi abbiamo... Un idrogeno. Un idrogeno. E un altro idrogeno. Ok? Vedete che stiamo guardando così. Idrogeno, idrogeno, idrogeno. Formano una specie di triangolo. Dopodiché, io qua vado a disegnare un cerchio. Ok? Questo cerchio rappresenta in un certo senso l'ingombro dell'atomo che stiamo guardando. E dietro c'ho gli altri atomi. Idrogeno. 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 Ok? Notate che, anche se qui sono perfettamente sovrapposti, io qui li ho disegnati leggermente sfalzati. Perché? Semplicemente per farli vedere. Ok? Quando li vedete leggermente sfalzati, uno è dire che la conformazione è quella in cui in realtà gli idrogeni sono perfettamente sovrapposti. Quindi, questo tipo di conformazione si chiama conformazione eclissata. Ok? Eclissata. Questo qua è l'idrogeno che stiamo considerando ora, quello che nel nostro modellino è in rosso. Ora, passiamo, cominciamo a ruotare, ok, questo carbonio. Quindi, da questa conformazione facciamo una rotazione di 60 gradi. Ok? Allora, cosa è cambiato ora? Come vedete gli idrogeni non sono più sovrapposti, ma sono sfalzati. Ok? Cioè, questo idrogeno si trova in corrispondenza del buco, diciamo, tra questi due idrogeni. Quindi, come faccio a rappresentare questa conformazione in proiezione di Newman? Allora, come prima, il mio carbonio, idrogeno, idrogeno, idrogeno. Scusate, ma ancora non sono bravissimo a disegnare con la tavoletta grafica. E questa volta ho idrogeno, idrogeno, idrogeno. Questo idrogeno sottolineato è sempre quello rosso. Questa conformazione si chiama sfalzata. Ok? Ora, quindi, eravamo arrivati a questo punto, giusto? Continuiamo la nostra rotazione. Altri 60 gradi. Cosa succede? Ho un'altra conformazione eclissata. Ok? Perché, di nuovo, questo idrogeno e questo idrogeno, ora, sono, vedete, sulla stessa linea. Quindi ho un'altra conformazione eclissata. Quindi, uno, idrogeno, 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 cerchietto, idrogeno, idrogeno e idrogeno. E questo qua, sottolineato, è sempre l'idrogeno che stiamo considerando, l'idrogeno in rosso. Quindi ho un'altra conformazione eclissata. Ovviamente potrei continuare a fare tante rotazioni, quindi avrei un'altra sfalzata. Ok? Quindi, vedete, sono da parti opposte. E sempre questo qui è in mezzo. Un'altra conformazione eclissata. Eccola qua. Un'altra sfalzata. E infine tornerei a quella iniziale. Ovviamente queste conformazioni che stiamo guardando sono quelle limite. Ok? Ci sono i casi più interessanti. Ovviamente abbiamo anche tutti i casi intermedi in cui, magari, invece di essere perfettamente eclissata, è solo un pochino spostato, poi ce ne sarà uno in cui è spostato ancora un altro po', poi ancora un altro po', poi ancora un altro po', fino a essere perfettamente a metà. E poi continua. È un continuum. Ora, queste conformazioni sono equivalenti tra di loro? Hanno tutte la stessa energia? Hanno tutta la stessa probabilità di esistere? C'è qualcuno che vogliamo sapere è, se io prendo 100 molecole di etano, quante di queste saranno in conformazione eclissata? Quante di queste saranno in conformazione sfalzata? Quante di queste saranno in quest'altra conformazione eclissata? E così via. Allora, ovviamente, la conformazione eclissata, cioè, ovviamente, la conformazione eclissata è meno stabile di quella sfalzata. Perché? Per una ragione puramente sterica, ok? Cioè di ingombro. In chimica, quando parliamo di ingombro sterico, ci riferiamo proprio al fatto che gli atomi nello spazio occupano un volume. Non sono dei puntini, sono delle sfere. Ovviamente è un'approssimazione, ma le nostre approssimazioni sono delle sfere. Sfere che si respingono tra di loro. Ok? O si legano o si respingono. Questi due idrogeni sono legati ai loro rispettivi carbonio. Ok? Quindi tra idrogeno e carbonio ho un legame chimico. Ma tra questo idrogeno e questo idrogeno, che tipo di forza ho? Ho una forza di tipo repulsivo. Ora, in questo tipo di conformazione, i due idrogeni sono relativamente vicini. Quindi, se io li metto in conformazione sfalzata, cosa succede? Succede che ora ogni idrogeno è libero, diciamo, non ha niente davanti. Ovviamente continua a interagire con gli altri idrogeni. Ma è più lontano, ok? Perché deve andare in diagonale, non più in linea retta. Di conseguenza, questa distanza è maggiore di questa. Quindi, se aumenta la distanza, ovviamente diminuisce la repulsione. Di conseguenza, se io voglio andarmi a scrivere, per esempio, un diagramma. Scusate se è tutto storto, ma ve l'ho detto. Purtroppo non sono bravissimo con la vagnetta grafica. Mettiamo, da una parte l'energia e dall'altra l'angolo di rotazione. Allora, a zero mettiamo la forma eclissata. Ok? Questa qua. Forma 1. 1. Però cosa succederà all'energia? Succederà che questa energia va a diminuire, 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 fino ad arrivare a un minimo, che corrisponde alla conformazione sfalzata. Che è appunto quella in cui le interazioni sono minime. Perché i due idrogeni, ma anche questi, e ovviamente anche questo qua, sono il più lontano possibile. Dopodiché, man mano che continua la mia rotazione, cosa succede? Ritorno a eclissarmi, quindi l'energia torna a aumentare. Quindi dalla 2, l'energia aumenta, 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 fino a raggiungere un nuovo massimo. Che corrisponde, se questo era 2, questo è 3. Ok? Ho un nuovo massimo che corrisponde a una nuova conformazione eclissata. E poi continuo, no? Quindi poi scenderò ancora, poi andrò a risalire, poi andrò a ridiscendere, e così via. I minimi corrispondono a delle conformazioni sfalzate, i massimi a delle conformazioni eclissate. Ora, questo cosa ci dice? Ci dice quindi che in realtà la maggior parte delle molecole di etano si ritroveranno nella conformazione sfalzata. Ora, l'idrogeno in realtà è un atomo molto piccolo, per cui questo ingombro non si sente più di tanto. Se io ho un ascensore in cui possono entrare massimo 4 persone e ci metto 4 persone mingarline, sì, magari saranno un po' strette, ma fino a un certo punto. Certo, se invece ci metto 4 lottatori di sumo, la questione è un po' diversa, no? Ecco, se invece dei nostri idrogeni mingarline ci metto per esempio dei metili lottatori di sumo, allora ecco che la faccenda diventa molto più complessa. Vedete, è la stessa cosa di prima. Cosa ho cambiato? Al posto di avere due idrogeni qui, ho messo due gruppi metili. In questo caso, la differenza di energia tra una conformazione e l'altra è molto, molto, molto grande. Per cui, se qui possiamo dire che, non lo so, un 60% delle molecole sarà in conformazione sfalzata e l'altro 40% in eglissata, qui in conformazione eglissata mi avrò solamente un, toh, 10%. Guarda, questi numeri in realtà lo sto dicendo un po' a caso, non ho visto i dati veri, però, penso più o meno dovremmo essere lì, ok? In realtà, qui ci sono delle complicazioni extra. Infatti, vedremo che qui parlare solamente di conformazione sfalzata e di conformazione eglissata è un pochino riduttivo. Allora, quindi, come nel caso di prima, proviamo a disegnare tutte le proiezioni di Newman delle conformazioni del butano. Questo è il normalissimo butano. CH3, CH2, CH2, CH3. Vediamo un po' che conformazioni ha. Allora, come al solito, noi stiamo guardando, guardiamo la molecola lungo questo asse, lungo l'asse tra il C2 e il C3. Carbonio 1, carbonio 2, carbonio 3, carbonio 4. Quindi, C2 e C3. Quindi, avrò. Allora, un puntino corrisponde ai miei carboni. Asticella CH3, perché abbiamo un metile in alto. Idrogeno, idrogeno, cerchietto. Ora, qua diventa più difficile scrivere le conformazioni glissate. Allora, ve la scrivo un po' più lunga, eh. Ovviamente, i legami sono tutti uguali. Allora, qua li scrivo un po' più lunghi, giusto per chiarezza, perché con questa tavoletta non sono molto bravo. Quindi, questa qua che ho disegnato serve la conformazione glissata, in cui, quindi, i metili sono tutti e due dalla stessa parte. Ok? Vedete? sono entrambi dalla stessa parte rispetto al carbonio e si sovrappongono. Come vedete, rispetto prima, in cui, sì, gli idrogeni si sovrapponevano, ma erano, insomma, relativamente lontani, qui vanno proprio a sbattere, eh. Ok? Ora, non so quanto questi modellini siano aderenti alla realtà dal punto di vista delle dimensioni vere, però, insomma, ci siamo quasi, eh. Per cui, come vedete, qui questa conformazione è una conformazione estremamente instabile. Ok? Perché ho proprio una repulsione molto forte tra gli atomi che non vogliono occupare tutti quanti lo stesso spazio. E più o meno, no? Poi, il fondamento della teoria Vseppre, quella della chimica generale, no? Vi ricordate? Quando dovevamo disporre gli atomi in una certa geometria, lo facevamo cercando di metterli il più lontano possibile. E qui facciamo la stessa cosa. Quindi, questa prima conformazione è clissata e sicuramente è la meno stabile. Ora, andiamo avanti. Cominciamo a fare sempre una rotazione di 60 gradi. Eccola qua. E quindi abbiamo una prima conformazione sfalsata. Quindi, questo sarà, chiamiamo, uno. Poi, metile, idrogeno, idrogeno, tondino, ch3, h, h. E questa qua è la conformazione 2. Come vedete, ho sempre un'interazione importante, vedete che sono sempre, insomma, quanto sia, sono sempre vicini, no? I due metili. Per cui, comunque, non sarà una conformazione stabilissima, ma sicuramente è meglio di prima. Concordate con me, spero, no? Sicuramente la repulsione è molto inferiore. Andiamo avanti. quindi, facciamo un altro giro. Otteniamo una nuova conformazione eclissata. Però questa volta chi è essere eclissato? Il metile con l'idrogeno. Ok? Quindi non è più una conformazione eclissata come prima in cui ho i due metili a essere eclissati tra di loro, ma in cui è un metile e l'idrogeno. Una situazione che è sicuramente più favorevole. Quindi, idrogeno, cerchietto, quindi, idrogeno eclissato, metile eclissato, e qui c'è un altro idrogeno. Ok? Continuiamo la nostra rotazione. Altri 60 gradi. Che conformazione abbiamo ottenuto ora? Abbiamo ottenuto una conformazione che è sfalsata. Ok? Perché? Perché di nuovo il metile si trova a metà rispetto a questi idrogeni che ci stanno dietro. Ok? Spero che li stai tenendo bene in prospettiva. Allora, quindi, tondino, CH3, idrogeno, idrogeno, cerchietto, CH3, idrogeno, idrogeno. E questo qua sarà il numero 4. Quindi, rispetto a prima, questa volta ho 4 conformazioni diverse. Una conformazione eclissata dei due metili, una conformazione sfalsata in cui i due metili sono vicini, una conformazione eclissata di metile e idrogeno e una conformazione sfalsata in cui i metili sono da parti opposte. Allora, la conformazione sfalsata in cui i metili sono da parti opposte si chiama ANTI. Ok? ANTI. Mentre, la conformazione sfalsata in cui i due metili sono vicini si chiama GOSH. Scritto GAUKE. Ok? Quindi ho eclissata, GOSH, sfalsata e ANTI. Se andiamo a disegnarci di nuovo il nostro bel diagramma delle energie, quindi energia con l'angolo di rotazione, scopriremo che, ovviamente, il massimo dell'energia ce l'avremo per la conformazione eclissata. Quindi, il massimo di energia ce l'avremo per la conformazione eclissata. Poi avremo una conformazione GOSH, ok? Che è la 2. Poi andiamo a risalire di nuovo, ma questa volta un po' di meno, ok? Quindi questa qua sarà la 3, che era questa qui. Poi, andrò di nuovo a scendere verso un minimo che corrisponderà alla conformazione ANTI. Ok? Quindi ho 4 energie diverse, ho 2 minimi corrispondenti alla GOSH e alla ANTI e 2 massimi corrispondenti all'eclissata con i due metili e all'eclissata di metile idrogeno. Ok? Ovviamente, questo qua però è il massimo assoluto, vedete, è il più alto in tutto, mentre questo qua è il minimo assoluto. Ok? Mentre prima avevo un massimo e un minimo che poi cambiavano periodicamente. ovviamente posso continuare poi, no? Quindi dopo l'ANTI avrò un'altra conformazione eclissata di metile idrogeno dopodiché avrò un altro minimo corrispondente a una GOSH che più o meno deve corrispondere al 2 mentre questo deve corrispondere al 3 e poi avrò un altro massimo corrispondente al fatto che sono ritornato ad avere la mia conformazione eclissata dei due metili. Ok? Bene, penso che per oggi ho parlato abbastanza quindi io mi fermerei qui. Vi invito a esercitarvi su questo argomento sicuramente nei vostri libri troverete un sacco di esercizi se avete dei dubbi scrivetemi di pure cercherò di rispondervi e noi ci vediamo nel prossimo video dove continueremo a parlare di conformazioni ma passeremo dagli idrocarburi cicli ma passeremo dagli idrocarburi lineari agli idrocarburi ciclici cioè gli idrocarburi nei quali non ho più delle catene ma ho dei cicli di carbonio quindi ciclopentano ciclobutano cicllesano e così via ciclobutano ha 4 carboni quindi è un quadrato ciclopentano è un pentagono di carboni cicllesano è un esagono di carboni e così via vedremo questo la prossima volta che vi ricordo sarà non la prossima settimana ma tra due settimane quindi vi ringrazio di avermi seguito e vi do appuntamento alla prossima ciao 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 ciao